Io ho sempre e soltanto avuto bisogno di amore. Grazie di essere venuti. Ricordatevi, la materia muore, ma l'arte continua a vivere per sempre. Io non ho mai avuto una chance nella vita. E ogni giorno mi è stato sottratto a qualcosa. L'incarso di ieri... La serata è andata bene. Qui le regole, le detto io. Carissimi concittadini, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni della Repubblica Italiana. Dobbiamo riprenderci la cultura. E per questo motivo sono lieto di aver affidato la direzione artistica del nostro teatro comunale al grande James Butterfly. Ho due lauree. Non ho un lavoro e vivo come una barbona. Diciamoci la verità, no? L'Occidente è pervaso da una cultura individualista, soprattutto attenta a dividere l'uomo e la donna per incentivarne i consumi. Dobbiamo credere nella famiglia. Questo è il nostro futuro. Ma che senso ha vivere una vita di un bugine? Tu ci godi a mettermi con le spalle al muro, vero? Beh, certo, però prima dovreste trovare un bel marito voi tu, eh. Anzi, solo a te stessa non ti sai controllare. Se ci avessero visto, che cosa avrei fatto? Siamo in grado di fare sacrifici enormi pur di rimanere vivi. Diventiamo brutali, aviti, scorretti e meschini. Perché mi stai facendo questo? Credi davvero che sia io il male di tutto questo mondo? Perché non sei niente? Credete davvero nel genere umano?